Il Corno Birone, seppur alto solo 116 metri, è una montagna molto interessante e facile da raggiungere che si trova poco prima di Lecco. Se siete escursionisti esperti e volete salire lungo un percorso vario panoramico, vi consiglio il sentiero Dario e William, che parte dal paese di Valmadrera per poi rientrare, facendo un giro d'anello, lungo il percorso Lucio Vassena, più semplice e indicato a tutti. Questo trekking vi permetterà di scoprire un luogo affascinante, ricco di sorprese e scorci panoramici, arricchiti da passaggi tra roccette, spuntoni e canali, per un'esperienza mai banale ma neppure troppo impegnativa. Grazie.